Musica Isernia in consiglio comunale è approdata l'interrogazione sull'assegnazione dei locali di Largo Maddalena Pia Unione di Sessano versus Diocesi dopo 8 anni di commissariamento le socie stromesse valutano il ricorso alla magistratura Un operaio ferito in modo serio al torace mentre stava lavorando in un cantiere della Trignina sull'episodio indagano i carabinieri Sindaci della provincia di Isernia sul piede di guerra contro la Grim riscuote le bollette idriche ma non garantisce il servizio C'è anche Agnone tra le 26 città italiane e le unioni di comuni candidate per il 2026 Buonasera dalla redazione di TVI Molise apriamo il nostro notiziario con il consiglio comunale di Isernia Ex lavatoio Giovan Carmine Mancini chiede chiarimenti sull'assegnazione dei locali A suo avviso impropri al vaglio dell'aula anche le variazioni urgenti al bilancio di previsione e il riconoscimento dei debiti fuori bilancio Vediamo Variazioni d'urgenza al bilancio di previsione, riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio e concessione dei locali dell'ex lavatoio Di questo si è discusso nel corso dell'ultimo consiglio comunale di Isernia Il primo punto ad essere affrontato in aula è stato quello relativo all'ex lavatoio Oggetto di interrogazione da parte del consigliere di minoranza Giovan Carmine Mancini Che ha parlato di uso improprio della sede Vi è una delibera di giunta comunale della loro amministrazione da Polonio che destinava tale immobile come casa delle merlettaie Quindi ridava una destinazione culturale come era logico Non se ne è fatto più nulla, non è mai stata attuata questa delibera di giunta Né la giunta di sinistra l'ha revocata Mi sembra una cosa che non ha ragione di essere Se non quella di essere accondiscenti questa maggioranza di sinistra con le varie associazioni Rassicurazioni sono giunte dal sindaco Piero Castrataro che ha detto È in procinto di essere pubblicato il bando di concessione degli immobili comunali L'ex lavatoio sarà inserito in questo bando E quindi tutto verrà fatto nella massima trasparenza come la cifra di questa amministrazione Per quel che riguarda le variazioni al bilancio Si sono rese necessarie per poter disporre dei fondi utili a portare avanti numerosi progetti Li abbiamo dovute fare principalmente per riattribuire dei fondi che erano andati in avanzo Per dei nuovi investimenti che abbiamo fatto Ci sono quelli ad esempio degli asili nido Per cui tra l'altro le gare sono state già assegnate alle ditte Sono tre asili nido nuovi, 4 milioni di euro di investimento Quella del Mangiaplastica che è un finanziamento che abbiamo ricevuto dal Ministero Per dei compattatori di plastica E altre che riguardano i fondi di rigenerazione urbana e di bando periferie Per rigenerazione urbana le gare stanno partendo proprio in questi giorni I debiti fuori bilancio invece riguardano un contenzioso promosso da alcuni dipendenti di Palazzo San Francesco Si, c'è stata una causa di alcuni dipendenti comunali che è stata vinta in primo grado E per obbligo di legge noi abbiamo il dovere di riconoscere il debito fuori bilancio E quindi di appostare le somme che dovrebbero essere pagate ai dipendenti comunali Noi speriamo che nei prossimi giorni si possa arrivare un accordo per ridurre anche la cifra Che non è una cifra piccola, è una cifra abbastanza importante E' chiaro che ci muoveremo in quest'ottica anche per evitare l'ulteriore grado di giudizio Perché il Comune ovviamente deve appellarsi alla sentenza del TAR Un operaio è rimasto ferito questa mattina a seguito di una caduta avvenuta nel cantiere In cui stava lavorando lungo la Trignina in territorio di Civitanova del Sannio Ferito in modo serio al torace, l'uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 E trasportato all'ospedale veneziale di Isernia Sull'episodio indagano i carabinieri E torniamo ad Isernia dove la consigliera di minoranza Linda Dall'Olio Durante il Consiglio Comunale ha chiesto le dimissioni del sindaco Piero Castrataro Dopo gli esiti delle regionali, vediamo Un invito al sindaco di Isernia Piero Castrataro Espressione dell'area di centro-sinistra Di mettersi in seguito all'esito delle elezioni regionali E' la provocazione che ha voluto lanciare nel corso del Consiglio Comunale di ieri sera La consigliera di Forza Italia Linda Dall'Olio Nei confronti di un'amministrazione che a suo avviso Continua a rimanere sorda alle istanze provenienti dalle altre parti e poco operativa Ma chiaramente si tratta di provocazioni che si fanno all'indirizzo di un'amministrazione Che ignora di essere stata eletta per un semplice inciampo elettorale Che non va più ripetuto e che bisogna al più presto risolvere Un'amministrazione che continua ad essere arrogante, presuntuosa Completamente ferma su qualunque tipo di iniziative di programmazione E che nonostante questa evidente batosta Continua come se nulla fosse a pensare di governare questa città Senza di fatto operare neanche nel minimo indispensabile, il minimo sindacale Hanno avuto due assessori candidati Già di per sé la candidatura di un assessore è sempre da evitare Perché chi svolge un ruolo esecutivo dovrebbe dedicarsi a quello E da un anno e mezzo insediata un'amministrazione del genere A tutto dovrebbe pensare tranne che a fare la scalata alle poltrone regionali Hanno avuto una batosta anche sui consensi personali Hanno avuto una batosta anche sui consensi dell'intero partito democratico Nella città di Sernia continuano ad essere arroganti Siamo sinceramente stanchi di questo atteggiamento E la città purtroppo se ne sta accorgendo Perché con questi risultati elettorali Ha praticamente voluto dire loro che si è fidata e forse ha fatto male Nel corso del proprio intervento durante l'assise civica L'esponente della minoranza ha sottolineato i risultati conseguiti dal partito democratico Evidenziando come un singolo candidato di centro-destra Abbia ottenuto più voti dell'intera lista del PD Eh sì, c'è stato un candidato del centro-destra Eletto consigliere di Sernia Che ha avuto un consenso personale superiore a quello di tutta la lista del PD Che ricordo è forza trainante di questa amministrazione I numeri vanno letti D'altra parte se no dobbiamo legittimare l'autorità del tessuto elettorale Dobbiamo capire cosa ci vuole dire l'elettorato Nel momento in cui ci indica questi numeri Non sono solo numeri, sono scelte, sono decisioni Sono evidentemente dei segnali che intende dare Del resto, ha rimarcato dall'olio La vittoria alle scorse comunali è dipesa da un errore di strategia del centro-destra Ma loro ai Sernia hanno vinto Non ci dimentichiamo perché il centro-destra andò spaccato Perché qualora il centro-destra fosse stato unito come ha fatto in occasione di queste regionali Non ci sarebbe stata proprio partita Avremmo vinto noi e loro non sarebbero mai riusciti Perciò parlo di inciampo elettorale Qualora si fossero però dimostrati realmente capaci di governare E avessero ripagato la fiducia che gli elettori gli hanno accordato Con un'operatività effettiva Insomma c'era anche da prenderne atto Invece quello che noi vediamo adesso è il nulla assoluto Per cui non possiamo che parlare di un errore che non va ripetuto E tutto quello che è seguito a quella competizione Comprese queste regionali ci fa capire che di errore si è trattato Il senatore coordinatore di Forza Italia in Molise Claudio Lotito Ha incontrato il neo eletto presidente Francesco Roberti E gli altri esponenti che hanno corso per le regionali Per ringraziarli ancora una volta Del grande impegno messo in campo durante la campagna elettorale E per tracciare insieme la ruota Alla luce dell'ottimo risultato raggiunto Abbiamo tanti obiettivi da raggiungere per il futuro della regione Ha detto Lotito Possiamo farlo anche grazie ad un forte raccordo Tra il territorio, il Parlamento e il governo Un'asse imprescindibile Che contribuirà a garantire lo sviluppo del Molise Con misure e interventi concreti Il centrodestra è pronto a governare con entusiasmo la regione Nell'interesse dei cittadini Lo faremo con un presidente credibile, forte e autorevole E il coordinatore molisano del Movimento 5 Stelle Antonio Federico All'indomani delle elezioni regionali vinte dal centrodestra E con il Movimento in caduta libera Passato dal 38% del 2018 al 7% del giugno 2023 Si è dimesso dal suo incarico Come riporta a primo piano Molise Ma le dimissioni sono state respinte da Giuseppe Conte Che avrebbe chiesto a Federico di restare La pesante sconfitta subita dai 5 Stelle alle regionali dello scorso giugno Ha creato un vero e proprio terremoto nel movimento regionale Dagli esiti imprevedibili Riunione in via aberta dei sindaci della provincia di Isernia Sul piede di guerra contro la Grimm La società che dovrebbe gestire le reti idriche e fognarie della regione Una società che riscuote le bollette dell'acqua Ma non ha il personale per intervenire Vediamo il servizio del nostro direttore Enzo Di Gaetano Acqua sul piede di guerra ai sindaci della provincia di Isernia Da un anno la Grimm incassa i soldi delle bollette dell'acqua Senza però garantire la manutenzione delle reti idriche e fognarie dei comuni Quando un cittadino chiama per un problema è sempre il comune che deve intervenire Anche se da un anno a bilancio non ci sono più risorse Per gli interventi sulle reti idriche e fognarie E della depurazione in quanto l'acqua viene pagata alla Grimm Una società creata dalla regione che riscuote i soldi per un servizio Che poi non garantisce Se non è uno scandalo poco ci manca Ci sono comuni e il caso di Pozzilli Che hanno anticipato ben 80.000 euro Senza avere fondi destinati a bilancio E senza la certezza di poter recuperare queste somme Pagando e non riscuotendo I comuni vanno incontro al dissesto Marciano Ricci ha minacciato addirittura di uscire dalla Grimm E il sindaco di Montaquila ha subito incassato la solidarietà dei suoi colleghi Esasperati per una situazione paradossale La proposta avanzata è semplice Continuare a riscuotere i soldi delle bollette dell'acqua Fino a quando la Grimm non diventerà operativa A buttare acqua sul fuoco della rivolta Emilio Incollingo, sindaco di Collia Volturno Che ha invitato alla calma i colleghi Nella certezza che dopo una iniziale fase di rodaggio La situazione migliorerà Allora la Grimm è la società di gestione delle risorse idriche Molisane che dal 1 luglio 2022 Ha preso in carico il servizio di dirgo integrato Per tutti i comuni della regione Molise È una società in house Costituita lo scorso anno Che ha come soci tutti i comuni del Molise E l'azienda speciale regionale Molise Acque Si tratta adesso di completare il percorso di transizione Dalle gestioni autonome comunali Alla gestione associata dell'ambito regionale E per questa ragione i sindaci e i vari bacini territoriali Della provincia di Serni e della provincia di Campobasso Si stanno riunendo per definire gli indirizzi Per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione Le cui procedure di rinnovo sono state avviate Dal 30 giugno scorso Per la nomina del comitato di controllo analogo Ma soprattutto per accelerare la fase di devoluzione Del servizio di ogni comune Dalle singole amministrazioni comunali Alla società unica di gestione Questo per adempiere alle prescrizioni di Arera E quindi poi allinearci a quelle che sono le direttive europee Per questi servizi di importanza fondamentale A domanda individuale dei cittadini C'è anche agnone tra le 26 città italiane E le unioni di comuni Che hanno inviato al Ministero della Cultura La manifestazione di interesse Per il Bando Capitale Italiana della Cultura 2026 Presenti 14 regioni italiane Con un'ampia distribuzione geografica Da nord a sud della nazione Come si legge sul sito istituzionale Per proseguire la corsa verso il titolo Le aspiranti capitali dovranno perfezionare La loro candidatura Inviando entro il 27 settembre un dossier Che sarà sottoposto successivamente Alla valutazione di una commissione Composta da sette esperti indipendenti Di chiara fama Nel settore della cultura, delle arti Della valorizzazione territoriale e turistica Pia Unione di Sessano Dopo otto anni di commissariamento Le socie storiche dell'associazione religiosa Pensano di rivolgersi alla magistratura Per avere risposte sulla vicenda Vediamo Pronte a rivolgersi alla magistratura Per venire a capo di una vicenda Che si protrae ormai dal 2016 Lo hanno annunciato le storiche associate Dell'istituto Pia Unione Mater Ecclesi E di Sessano Nel corso di una conferenza stampa In cui hanno ripercorso le vicissitudini Dell'associazione religiosa Costituita con atto notarile nel 1966 Riconosciuta nello stesso anno Dalla diocesi E artefice della realizzazione Sulla scorta della volontà di padre Carmelo Figlio spirituale di padre Pio Nella struttura che attualmente ospita una residenza per anziani La Pia Unione ha operato quotidianamente fino al 2016 Quando è sopraggiunto il commissariamento da parte della Curia Abbiamo avuto questo decreto di commissariamento del Lime Con quattro motivazioni E cioè uno che non avevamo consegnato i bilanci O meglio, avevamo consegnato con ritardo i bilanci degli ultimi due anni Altra motivazione Che non avevamo provveduto al rinnovo degli organi statutari Poi che avevamo un grosso debito Con l'Agenzia delle Entrate E quarta motivazione Che avevamo intrapreso un giudizio Senza, e siccome lo ritenevano loro un atto straordinario Senza la preventiva autorizzazione della diocesi Che cosa riguardava questo contenzioso? Riguardava la scadenza del fitto della casa di riposo Cioè era arrivato a scadenza E noi abbiamo fatto uno sfratto Per ultimata locazione Perché la casa di riposo Corrispondeva una cifra di 22.000 euro annue Per cui noi non avevamo fatto altro Che fare questo sfratto Per rinegoziare il fitto L'associazione religiosa hanno spiegato le storiche socie Ha risposto puntualmente alle osservazioni Chiedendo anche la revoca del commissariamento Che, senza alcuna risposta È andato avanti con tre differenti commissari Tra cui anche l'ex governatore Donato Toma Noi abbiamo contestato immediatamente l'incompatibilità Perché noi abbiamo dato infitto dei locali Che praticamente sono accreditati presso la regione monese Dopo otto anni nello scorso giugno È stata convocata l'Assemblea Per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione Noi ci siamo presentate e abbiamo fatto una pregiudiziale Abbiamo detto che quell'Assemblea era illegittima Illegale e superflua Illegale Perché non era stato seguito l'iter Perché nel momento del commissariamento Noi siamo stati Non siamo decaduti Secondo sempre il codice canonico Siamo stati sospesi Per cui finito il commissariamento Noi dovevamo rientrare in carica E dovevamo essere noi A convocare l'Assemblea Per la nomina del nuovo Consiglio Illegittima Perché nel frattempo Erano state ammesse 23 socie Non di Sessano Non sappiamo da dove vengono Altre soci di Sessano Avevano fatto domanda Da un anno Non hanno ricevuto risposta Nel frattempo Le storiche esponenti della Pia Unione Hanno deciso di andare fino in fondo Per ottenere delle risposte Di cui la decisione Di procedere per vie legali Con questo commissariamento Ci hanno sottratto tutto Oratorio Sale che avevamo a disposizione E sala polifunzionale Noi abbiamo voluto consegnare le chiavi Noi proprietari Non potevamo più accedere All'edificio Non potevamo più esercitare Il nostro diritto di proprietario Io ho chiesto tutti gli atti Perché volevamo sapere In questi otto anni Che cosa era stato fatto con i soldi Perché sono molti soldi Sono più di 200.000 euro Che sono stati riscosse Niente Nessuno ci ha risposto Abbiamo deciso Quali sono le prospettive Quello di interessare Le autorità competenti E ci saranno Perché noi ci fidiamo Della giustizia Noi andremo a vedere Sia da un punto di vista civile Civilistico Sia da un punto di vista Ecclesiastico E dopo aver interpellato I legali competenti Se ci sono I presupposti Anche per l'altermia Arriveranno altri due medici stranieri A supportare le attività Negli ospedali molisani L'ASREM Dopo aver approvato La relativa graduatoria Dell'avviso pubblico Per soli titoli Come riferisce l'ANSA Ha formalizzato L'assunzione A tempo determinato Per due specialisti In ginecologia E ostetricia Inderoga le norme Che disciplinano Le procedure Per il riconoscimento Delle qualifiche Professionali sanitarie Conseguite In paesi Dell'Unione Europea O in paesi terzi La comunità di Monteroduni Ricorda il professor Gian Battista Faralli Il suo lavoro Un grande contributo Alla storiografia E saggistica molisane Ce ne parla Antonia Cristinzio Un incontro In memoria Del professor Gian Battista Faralli È quello che si è tenuto Nel piccolo borgo Di Monteroduni Suo paese d'origine In occasione Dell'anniversario Della sua scomparsa Avvenuta lo scorso anno L'iniziativa Promossa dall'associazione IGEA Per ricordare Il noto intellettuale Molisano Autore di numerose Importanti opere Lo ricordiamo Questa sera Proprio per Il suo lavoro Sia come insegnante Che come animatore Culturale Come appassionato Anche Dei dialetti E quindi Del teatro dialettale Oltre che Appunto come Studioso Di letteratura E di storia Ricordare Il professore Faralli Significa ricostruire I momenti più importanti Di questi ultimi 40 anni Della storiografia E letteratura Molisana Ha contribuito In maniera significativa Alla ricostruzione Della storia Della cultura Del Molise I suoi studi Su Michele Romano Su Ciampitti Sul teatro dialettale La poesia dialettale Su scrittori contemporanei Come Rimanelli E come Luigi Incoronato Sono lavori Di tutto rispetto Della battista È uno studioso Con grandi competenze Con la capacità Di rapportare La storia La cultura Del Molise Al quadro nazionale E anche internazionale Come deve essere Uno studioso Che supera Ogni provincialismo Ogni campanilismo Tutto il suo lavoro Di una vita E a questo punto Devo sottolineare Un lavoro Di 30 anni Perché ha accompagnato Tutto il resto Degli altri lavori Il suo lavoro Sulla stampa periodica Del Molise Dalla prima metà Dell'Ottocento Fino alla metà Del Novecento Mancano ancora Altri tre volumi Per completare Questo quadro Che nessuna regione In Italia ha Cioè di una storia Culturale Ricostruita Attraverso la stampa periodica Un lavoro enorme In cui Giambattista Ha messo Le sue energie Fino agli ultimi giorni Della vita E mi auguro Che questo lavoro Possa trovare Un sostegno Da parte delle istituzioni Per essere completato Perché rimane Un punto di riferimento Per tutte le generazioni Successive Un illustre cittadino Che l'amministrazione Comunale Ha intenzione Di omaggiare Con l'intitolazione Di una strada Al di là Ecco Dello spessore Intellettuale Norevolissimo Dello scrittore Del saggista Si tratta Ecco Di una persona La cui formazione È stata Grandemente Influenzata Da Monterodoni E questo legame Con Con il nostro territorio Con Monterodoni Credo Che non lo abbia Mai abbandonato Nel corso Di tutta La sua Esistenza Credo Ecco Che sia Appunto Di Dovere Di questa Amministrazione Ricordare La figura Di Di Faralli Con Con una strada Con un'istituzione Con una piazza E comunque Ecco Di conservare Il suo Incangellabile Ricordo Presso la nostra Comunità Il capogruppo Di Fratelli D'Italia Al comune Di Campobasso Mario Annuario È intervenuto Con una nota Sullo stato Della manutenzione Delle strade Cittadine Siamo giunti Quasi al termine Di questa Legislatura In questi Quattro anni A ferma Annuario Ho sempre Ribadito L'importanza Di attenzionare Le problematiche Quotidiane Dalla mancata Gestione Ordinaria A diverse Interpellanze Portate All'attenzione Dell'assise Civica Al fine Di segnalare Le numerose Strade Prive Di manutenzione Dal centro Storico Fino alle Periferie Contrade Queste ultime Completamente Abbandonate Mi auguro Che l'assessore Cretella Capisca Che siamo Invasi Dalla presenza Di ratti E che non c'è Più tempo Da perdere I cittadini Conclude Annuario Ancora Attendono Risposte Imbracciata La falce Con il cappello Per proteggersi Dal sole A Filignano Il signor Dante Riprende Una pratica Della tradizione Contadina La mietitura A mano Il video Impazza Sui social Scopriamo Di più Insieme a Domenico Marzocchella Andate a Zappare La terra Ciò che per chi lo pronuncia E per i destinatati Suona come un insulto Per il signor Dante Assume un significato Tutto diverso Quello di un invito Alla riscoperta Delle tradizioni Di un tempo L'arzillo pensionato Con il volto Semi nascosto Dal cappello Per proteggersi Dal sole E con un abbigliamento Stranamente pesante Che presumiamo Servirà al medesimo scopo Imbracciata La falce E alle prese Con la mietitura Del suo podere Siamo su A Selvone Manciata di case Ricadenti Nel comune di Filignano A riprendere La faticosa operazione Che E meno male Per i contadini Ormai da tempo Viene svolta Dalle macchine Il figlio Giuseppe Il video Diventa Una sorta Di intervista Che finisce Pure sui social Con il protagonista Che tra un colpo Di falce E l'altro Ha pure la forza Di rispondere Ecco qua Il modo in cui Si metteva il grano Si mette Con tutto l'ardore Sotto il sole Con il cappello E senza vino Il riferimento Al ristorro Della fiaschetta di vino Ci sta tutto Fa anch'esso parte Della tradizione Quella in cui La mietitura Oltre alla fatica Portava con sé La festa Quando cioè La raccolta del grano Avveniva a mano Ed era un lavoro Che impegnava Uomini Donne E bambini Ognuno Con un ruolo Ben definito Anche le famiglie Del vicinato Davano una mano Al di là Della retorica Erano tempi Più duri Ma meno difficili Rispetto a quelli Odierni A fare la differenza Il senso Di coesione Che univa le comunità Specialmente quelle rurali E tanto vero Che il ritorno alla terra Sta affascinando Un numero crescente Di persone Soprattutto giovani Magari anche Il video del signor Dante Contribuirà A farli tornare Alla campagna E alla vita contadina Come dicevamo Sta già accadendo La filiale della Banca d'Italia Di Campobasso In collaborazione Con la Camera di Commercio del Molise Con il Comune di Termoli Ha organizzato Un ciclo di tre incontri Rivolti agli imprenditori Sul fenomeno Della contraffazione Delle banconote Gli incontri Che si terranno Esclusivamente in presenza Si terranno Venerdì 7 luglio Presso la Sala Consiliare Del Comune di Termoli Giovedì 14 settembre Presso la sede Della Camera di Commercio Di Campobasso E giovedì 21 settembre Presso la sede Della Camera di Commercio Di Isernia Ed andiamo A Campobasso Dove procedono I lavori di riqualificazione Dell'area davanti Al carcere di via Cavour L'intervento prevede La realizzazione E la segnalazione Di un percorso Pedonale in sicurezza Vediamo il servizio Realizzato da Francesco Adamo Nei giorni scorsi È stata data Sistemazione Al primo tornante Della salita Al Castello Monforte Ora Spostiamo l'attenzione Su un altro cantiere aperto Lungo le strade Della città In questi giorni Sono in atto Dei lavori evidenti Grazie ad una colorazione Sgargiante Verde e rossa Che salta all'occhio Si tratta Di lavori di riqualificazione Dell'area antistante Il carcere Di via Cavour L'intervento Prevede la realizzazione E la segnalazione Di un percorso Pedonale in sicurezza Da via Erculania Fino alla fermata Autobus Di via Cavour Con l'abbattimento Delle barriere architettoniche Ed il posizionamento Di nuovi elementi Dissuasori A tutela dei pedoni Fino ad oggi Costretti spesso A muoversi sulla careggiata Stradale A causa Della presenza Delle automobili In soste irregolare Che da ora In avanti Non ci saranno più Certo Questa mattina L'improvida presenza Di un autocarro Non permetteva Comunque La circolazione Tranquilla E sicura Dei pedoni Probabilmente Manca ancora Qualche dettaglio Per il momento Accontentiamoci Della pitturazione Ben riuscita Si comincia Dando attenzione Ai pedoni Ma presto Ci sarà un intervento Che riguarderà I ciclisti Infatti Lo stesso tratto Di percorso Nelle prossime settimane Sarà affiancato Anche dalla corsia Ciclabile Che collegherà La zona universitaria Con il centro città Venerdì 7 luglio Alle ore 10 Presso la sala Della costituzione Della provincia Di Campobasso È in programma Il convegno Dal titolo Avio superficie LC Molise E neocostituente Società consortile Avio Molise Nel corso Dell'incontro Saranno illustrati Dettagli e dimostrazioni Video Con l'intervento Di esperti E amministratori Il convegno È aperto A istituzioni Imprenditori Artigiani Albi professionali E organizzazioni Sociali Economiche E culturali Della regione Molise Un libro Sulla tecnica Dell'affresco Nel luogo Degli affreschi Per eccellenza Il castello Pandone A seguire Visite guidate A Venafro L'iniziativa Di memo Cantieri Culturali I dettagli Con Domenico Marzocchella Dialoghi Sull'affresco L'arte Come ordalia Quattro lezioni Sull'affresco All'accademia Di Brera Cura del maestro Vincenzo Sorrentino Il maestro In questione E anche L'autore Del libro Presentato A Venafro Negli spazi Del Museo Nazionale Del Molise Di Castello Pandone Il libro Spiega ai nostri Microfoni Lo stesso autore Rappresenta Il sugello Del corso Ventennale Di teoria E tecnica E tecnica E tecnica Dell'affresco Tenute Presso L'accademia Di Brera E' costruito Questo libro Attraverso Uno studio Attento Dei trattati Dell'arte Che ricostruiscono Tutti Il percorso Delle varie Pratiche Dell'affresco A partire Dall'antichità Fino Al seicento Al barocco pieno Questa è una tecnica Oltre che antica Molto complessa Quali sono Gli autori Contemporanei Che la utilizzano Gli autori Contemporanei Sono pochissimi E vivono Soprattutto Ai margini Del sistema Dell'arte Contemporanea Bisogna dire Che questa tecnica Non è contemplata Come tecnica Fondamentale Nel panorama Artistico Contemporaneo E' una questione Di tipo Storico Perché L'affresco Ferma Il suo sviluppo E quindi Ferma la sua possibilità Di evolversi Con la rivoluzione Francese La presentazione Seguita da visite guidate A cura dell'associazione Memo Cantieri Culturali Un'iniziativa importante Per l'associazione Che si occupa Di valorizzazione E conservazione Di quelli che sono I beni culturali Nella nostra regione Sarà una serata magica Perché il castello Sarà aperto Fino alle 23 Quindi gli utenti Potranno visitare Il piano nobile E il museo nazionale Del Molise E fondamentale E il viaggio Che noi ripercorreremo Con il maestro Perché attraverso La bravura Di Michelangelo Buonarroti All'interno Della Cappella Sistina Attraverso La storia Della Genesi Attraverso Le Sibille I profeti Attraverso La creazione Della verità Che poi lui cerca Proprio questo significato E traduce Le sacre scritture In visione In un capolavoro Importantissimo In tutto il mondo Siamo contenti E felici Che ha luogo Proprio in questo castello Che comunque È il perno Del Molise Proprio perché È la porta Del Molise Quindi Contenti Di voler Valorizzare E promuovere Sempre di più Questa regione Attraverso Degli eventi Culturali Che sicuramente Permettono A tutti noi Di circondarci Di bellezza Ma soprattutto Di far rete Che è una cosa Fondamentale E adesso Andiamo a vedere Gli avvenimenti Più importanti Di oggi In Italia E nel mondo Con la nostra Antonia Cristinzio Sì Carla Le notizie in evidenza Questa sera Sull'ANSA Il testamento Di Berlusconi Ha aperto davanti Ai testimoni Presenti due avvocati Uno in rappresentanza Dei figli Marina Persilvio L'altro di Barbare Leonora e Luigi Il notaio Ha detto Non posso dire niente Né ora né mai Sul sito di Schettig24 La guerra in Ucraina Due esplosioni In un tribunale Di Kiev Feriti Morto L'attentatore La doppia deflagrazione Nel distretto Di Shevchenkiv L'ordigno Portato da un uomo Accusato di attentato Nel 2015 Che si sarebbe fatto Saltare in aria Provocando Il ferimento Di alcuni agenti Intervenuti sul posto Il presidente cinese Xi Jinping Avrebbe messo Personalmente In guardia Putin Invitandolo A fare marcia indietro Dalle minacce atomiche Zelensky Ha detto Abbiamo informazioni Dalla nostra intelligence Che i russi Hanno collocato oggetti simili A esplosivi Sul tetto della centrale Di Zaporigia Sul sito della stampa Daniela Santanchè Al senato Contro di me Campagna d'odio Dalla stampa Pratiche schifose Emozione di sfiducia Dei 5 stelle Il PD che dice Si dimetta Fratelli d'Italia Invece siamo con lei L'intervento Della ministra Del turismo Sul caso visibili Ha fatto ricorso A misure a disposizione Tutte imprese Critiche più feroci Da chi prenota Nei miei locali Sul sito della Repubblica La cronaca Salvatore Parolisi Scusate Fuori dal carcere In permesso premio Sarà dura Con il mio nome Il fratello di Melania Re Ha detto Tanta rabbia Carla Queste erano le notizie Questa sera Grazie Antonia Per il punto Sulle news Delle ultime ore Adesso il meteo Il meteo È offerto da Casa di cura Villa dei Platani Malzoni di Avellino Previsioni per oggi Mercoledì 5 luglio L'avanzare Dell'anticilone africano Inizia a far sortire I primi effetti Mediante aumento Delle temperature E tassi di umidità Questo tuttavia Non è che l'inizio Di questa seconda Ondata di calore Che raggiungerà Il suo apice Proprio al ridosso Del prossimo weekend Intanto per oggi Si prevede sole Su tutta la regione Fatta eccezione Per locali addensamenti A ridosso delle aree interne A cui non dovrebbero Associarsi fenomeni Venti dai quadranti Sud occidentali Mare calmo Temperature Campobasso Minima 18 Massima 28 Esernia Minima 17 Massima 31 Termoli Minima 22 Massima 29 Venafro Minima 17 Massima 33 Previsioni per domani Giovedì 6 luglio Per la giornata di domani Non si segnalano Variazioni di rilievo Rispetto al giorno precedente Con tanto sole Temperature Un ulteriore aumento Venti dai quadranti Sud occidentali Mare calmo Temperature Campobasso Minima 16 Massima 30 Esernia Minima 17 Massima 32 Termoli Minima 23 Massima 30 Venafro Minima 17 Massima 34 E con le previsioni del tempo è tutto Grazie per averci seguito E buon proseguimento Grazie per averci seguito